Buona giornata a tutti, sono le ore 9 di martedì 5 marzo 2024, pace e gioia a tutti voi cari amici in ascolto e che la luce della parola di Dio guidi i nostri passi nel corso di questa giornata sulla via della verità, del bene e sulla via della pace. Oggi cari amici, come già vi ho avvertito, nei programmi che abbiamo annunciato, invece della lettura cristiana, della Corso di Catastro, andremo in un'editoriale con un titolo molto particolare, cioè la Madonna salverà l'Europa dalla catastrofe, quindi c'è una novità che parla di Europa e poi ci sono anche altre novità e che grazie anche alla collaborazione dei nostri ascoltatori riusciamo in qualche modo a focalizzare sempre meglio il presente e il futuro alla luce dei messaggi della religione della pace e alla luce ovviamente della visione cristiana della storia. E così anche queste sintesi che faccio ogni tanto con l'editoriale servono anche a tante persone che sentono la radio quando possono, insomma, quindi a volte bisogna dare una visione di sintesi in modo tale che ognuno, pur non avendo molto tempo, però ascoltandola può farsi man mano sempre più una visione che non sia quella succube dei mass media, insomma che in genere hanno un'informazione prima di tutto orientata, poi anche parcializzata, cioè non ha visioni sintetiche e tanto più non ha visioni soprannaturali, perché mancando la fede, cari amici, non è possibile una teologia della storia. Allora, quindi in questo editoriale io esporrò le ragioni della speranza, cioè in poche parole, con lo sguardo verso il futuro, che è quello che ci dà la Madonna, la quale in tutti questi anni ci ha mostrato il piano di Satana, ma ci ha mostrato nel medesimo tempo il suo piano e sarà il suo piano a prevalere. Ora noi siamo, come dire, immersi in una fase della storia in cui effettivamente vediamo più il piano di Satana di quello della Madonna, cioè vediamo che il mondo corre verso la catastrofe di una guerra mondiale senza che nessuno abbia i freni inibitori e senza che, come dire, si dia ascolto anche minimo a quella voce autorevole che è quella del Santo Padre che fa risuonare quasi ogni giorno l'ammonimento a lavorare per la pace. Allora mi chiedo se le ragioni della speranza hanno dei fondamenti o non hanno dei fondamenti per cui se le ragioni del male, nel senso che si sta affermando con forza e quindi le ragioni del pessimismo sono fondate o se invece siano fondate le ragioni della speranza e della vittoria del bene. Ora la prospettiva è proprio questa, quella che è sempre la solita ma ho consolidato e precisato maggiormente è che in questa fase e nonostante tutto la regina della pace sta operando per salvare il mondo, per salvare soprattutto l'Europa che in questo momento è nel mirino del drago come lo era già da sempre, una lavata di capo comunque se la merita e quindi salvare anche il futuro ad una civiltà grandiosa come è stata quella europea. Per me ragioni della speranza ce ne sono per questo. Allora cominciamo cari amici a dir la prima ragione della speranza di questa lunga permanenza della Madonna a Međugorje che non è scontata. Difatti la Madonna in più occasioni ha detto che lei ha ottenuto da Dio di rimanere qui così a lungo. Quindi il solo fatto che la Madonna passa per la prima volta. Il 24 giugno del 1981 sia qui oggi, oggi è il 5 marzo del 2024, da allora la Madonna è qui con apparizioni quotidiane, senza mai interruzioni delle apparizioni quotidiane né per motivi di guerra né per altri motivi. Questo solo fatto a mio parere ci dice quanto sia affidabile la Madonna. Ci dice quanto siano affidabili queste apparizioni. Ci dice appunto che la Madonna nella consapevolezza di essere venuta per l'ultima battaglia sta apprestando tutto con molta meticolosità perché veramente il suo cuore immacolato trionfi. Quindi il solo fatto che la Madonna sia qui da così tanto tempo ci deve tranquillizzare, ci deve fortificare, ci deve dare uno sguardo di speranza in avanti. C'è stato un tempo in cui i cari amici, i veggenti dicevano che col decimo segreto i veggenti non avrebbero più avuto apparizioni quotidiane, ma solo quella di una volta all'anno come così è vero per prima Mirjana, poi Ivanka, poi Iacov, che hanno apparizioni annuali. Mentre i tre veggenti che non hanno ancora ricevuto il decimo segreto hanno apparizioni quotidiane sono Maria, Vizca e Ivan. Ora cari amici, la Madonna ha ottenuto un fatto nuovo importantissimo e questo ce l'ha comunicato Vizca, non altri veggenti. Gli altri veggenti ha preso atto di quello che Vizca ha detto che la Madonna ha rivelato che anche nel tempo dei segreti e anche oltre il tempo dei segreti ci sarà un'apparizione quotidiana a uno di tre ragazzi che adesso hanno le apparizioni quotidiane, cioè o Maria o Vizca o Ivan avranno apparizioni quotidiane tutto il tempo dei segreti. Il che significa che la Madonna ha ottenuto da Dio questa grazia immensa perché avere la Madonna che scende dal cielo sulla terra ogni giorno nel tempo dei segreti e dà anche messaggi sarà una forza, una luce straordinaria, straordinaria, inestimabile, di inestimabile valore. Quindi la Madonna ha rafforzato il suo piano e la sua presenza sempre di più per cui è come dire ci sono io, di cosa avete paura? È come quando Gesù dice sono io sulla barca, di cosa avete paura? Quindi questa promessa della Madonna di essere sempre con noi fino alla sua vittoria è sicuramente una grande ragione di speranza. Ora, in tutto questo tempo, cari amici, si sono delineati due piani fra loro contrapposti, il piano di Satana e il piano di Maria. La Madonna stessa parla di un suo piano che sta realizzando, che si deve ancora realizzare, che in parte si è realizzato, in parte si deve realizzare e parla anche di un piano di Satana che ha esplicitato in diverse occasioni dicendo che Satana vuol distruggere la vita, la natura e il planeta sul quale viviamo e quindi vuole mettere le anime e portare con sé. Questo è il piano di Satana, cioè, detto in parole tecniche, Satana ha come piano di distruggere l'opera della creazione e l'opera della redenzione. Chi segue le apparizioni di Michioore fin dall'inizio sa che, quindi avendo oltre 40 anni alle spalle, sa che in tutto questo tempo il piano di Satana si è incrementato giorno dopo giorno e che a due sponde il piano di Satana. La prima, la più importante ovviamente, è quella sul piano spirituale, dove Satana ha cercato di picconare, per così dire, le fondamenta della fede, ha cercato di riportare il mondo al paganesimo, è riuscito a portare l'Occidente in una situazione di ripudio della fede e della croce per una nuova religione che è poi la religione dell'uomo al posto di Dio. E la Madonna ha anche detto, nel 2017, in un messaggio a Ivan, che il piano di Satana di mettere l'uomo al posto di Dio si è realizzato, si è compiuto. Quindi la Madonna ha anche precisato che Satana in questo modo ha messo se stesso al posto di Dio. E infatti in un messaggio del 25 marzo 2020 ha detto Satana regna. Dunque, cari amici, questo è il piano meticoloso che Satana ha portato avanti in tutti questi anni e noi ce ne siamo resi conto con noi stessi, noi stessi ci siamo indeboliti nella fede, molti l'hanno persa, molti, voglio dire, perfino quelli della mia generazione hanno perso la fede. Sono quelli che hanno fatto il 68, quelli che hanno fatto quelle sedo rivoluzioni culturali che poi hanno portato di fatto all'ateismo. E per cui possiamo ben dire che nel giro di questo tempo, in questi 40 anni, è stato costruito veramente un mondo senza Dio. la Madonna l'ha segnalato più volte, predicendo per questa opzione particolare di un mondo diciamo dove io sono il padrone, dove l'uomo è il padrone, non ha né futuro né salvezza eterna. Non c'è né felicità né salvezza né eternità per un mondo nuovo senza Dio. E quindi Satana è ben riuscito a costruire questa Babele o questa Babilonia, di cui parla il capito XVII dell'Apocalisse, il covo dei demoni, che riguarda poi tutto il mondo, non solo l'Occidente, e che sta portando se stessa alla catastrofe. Non c'è dubbio al riguardo, per cui noi vediamo che il cristianesimo non solo è abbandonato, è osteggiato, è deriso, è osteggiato, è deriso ed è perseguitato. E le leggi degli stati, proprio di quella che una morte della cristianità, sono sempre più leggi lontane dalla morale naturale dei dieci comandamenti. Non voglio trarne particolari, ma insomma è il mondo alla rovescia, cioè non è il matrimonio santo un valore, è l'adulterio un valore, non è il rispetto della vita un valore, ma è l'aborto un valore. Tutto capovolto ovviamente è, come dire, registrato nelle leggi umane, nei comportamenti umani. E questo è quel mondo che adesso, ignaro di Dio, accecato dall'odio e dalla supervia, corre veloce verso l'autodistruzione. quindi la catastrofe spirituale possiamo dire che abbiamo davanti agli occhi, ora non bisogna esagerare del tutto perché la Madonna nel frattempo ha creato le contomisure ovviamente, adesso lo vedremo, però Satana non ha fatto cappotto, però se la Madonna ha detto che Satana mette le anime e ci andiamo vicino. Allora, questo è il primo versante, la prima faccia della medaglia del diavolo, cioè la catastrofe spirituale. La seconda faccia della medaglia, del piano del diavolo è, diciamo, l'odio. L'odio contro Dio, innanzitutto, la prima parte, la prima lato del piano del Satana è l'odio contro Dio, piano A e piano B, è l'odio degli uomini fra di loro, piano B e in questo Satana ha, come dire, operato a diversi livelli per far sì che a ondate l'odio producesse guerre, intanto da portare l'umanità ormai alla vigilia di una guerra totale, cioè di una guerra globale che ormai si sta, come dire, delineando davanti ai nostri occhi. Perché la guerra in Medio Oriente e la guerra in Ucraina sono inizi di un incendio che potrebbe divorare il mondo. Questo è il piano di Satana, che sta portando avanti con determinazione e con l'accecamento fa sì che lui sia convinto di vincere lui. Nel frattempo, cari amici, in tutti questi 40 anni la Madonna ha portato avanti il suo piano. Il piano della Madonna è, prima di tutto, un piano di carattere spirituale che è quello del rafforzamento della fede e del rafforzamento della Chiesa e in questo piano globale la Madonna ha avuto una sua, come dire, una sua pedagogia, una sua tattica. Cioè non solo ha scelto dei veggenti a Meggiugorie, i sei veggenti che conosciamo e che sono sempre quelli dopo 42 anni, ma ha scelto una parrocchia che lei ha deciso di guidare. Per cui la parrocchia di Meggiugorie è guidata dalla Madonna e ovviamente se è la Madonna che la guida, non è che la guida ovviamente con l'autotecnica esastica, ovviamente questo, però insomma la Madonna ha detto che lei, l'ha detto lei, lei ha scelto questa parrocchia perché desidera guidarla e l'ha guidata fino ad ora. Dunque cari amici, la Madonna ha operato un grande rafforzamento della fede in questi anni che di fatto ha toccato milioni e milioni di fedeli, soprattutto in Europa. Una parte anche in paesi di antica cristianità come sono le Americhe e con una discreta diffusione anche in altri paesi del mondo, sia dell'Asia sia dell'Africa. Però il cuore, diciamo, della risposta alla Madonna è stata soprattutto l'Europa, non c'è dubbio a riguardo, e anche l'Italia ha avuto un contributo straordinario, prima l'Europa dell'Ovest, prima l'Europa dell'Est, comunque sia anche questi pellegrinaggi, poi i messaggi della regia della pace, sono diventati quel cibo quotidiano che ha fortificato le minoranze cristiane in Europa. Cioè è vero che l'Europa ha perso un po' di cristiani in questi decenni, però è anche vero che le sue minoranze si sono molto rafforzate. Noi lo vediamo con le radio marine, in Europa sono 32, ma tutte riescono a vivere con l'offerta dei fedeli. Cioè, i fedeli ci sono, quindi non sarei poi così pessimista nel decretare la fine dell'Europa. Dunque, cari amici, la regia della pace ha portato avanti questo piano di rivitalizzazione della fede cristiana e di fortificazione della Chiesa, e l'ha fatto soprattutto invitando a Međugorje un numero enorme di sacerdoti, come mai avvenuto in nessun santuario del mondo. Cioè, anche lo scorso anno, i sacerdoti sono stati oltre 40 mila, le concelebrazioni di sacerdoti, quindi questo vuol dire che sono andati almeno in 20 mila a Međugorje, forse anche di più, perché è vero che uno conceleba per due o tre volte, ma è anche vero che molti vanno e poi fanno, diciamo, partono subito, oppure... quindi parla di 30 mila sacerdoti all'anno è una cosa che nessun santuario può vantare in nessuna parte del mondo. E quindi così la Madonna ha fortificato la sua presenza operando, diciamo, un'opera di evangelizzazione, di fortificazione della Chiesa con la sua presenza e con i suoi messaggi. Nel frattempo la Madonna ha agito molto anche a livello politico, come è stata agita a livello politico, perché ha realizzato una parte importantissima del suo piano che era il crodo del comunismo. Difatti i primi dieci anni la Madonna ha chiesto un digiuno strettissimo a Međugorje, la popolazione non riusciva a sapere per quale motivo, perché diceva chiedo il digiuno a pane e acqua mercodì e venerdì per la pace. E la Madonna l'ha chiesto in situazioni drammatiche quando è caduto l'impero sovietico, ma non c'è dubbio che la caduta dell'impero sovietico è un grande capolavoro della legge della pace, perché ha messo fino al comunismo in Europa, perché di fatti poi il comunismo è crollato anche negli altri paesi europei e anche nei paesi dell'Europa occidentale il comunismo poi ha dovuto cambiare nome, perché tanto è rinviso la popolazione. Dunque cari amici, questa è la controffensiva della Madonna e il piano di Satana, il rafforzamento della Chiesa, la caduta del comunismo, la liberazione quindi degli cristiani europei, del nord dell'Europa, ma anche della Russia, perché comunque per il comunismo era perseguitata anche la Chiesa ortodossa, non dimentichiamolo. E adesso cari amici, la Madonna ha portato avanti questo piano, però io siccome sto facendo un bilancio del piano di Maria e del piano di Satana dall'inizio fino ad ora, devo registrare che mentre vedo che Satana è come dire con il vento in poppa, perché come dire sembra che abbia il mondo in mano, vedo la Madonna un po' preoccupata. Alcuni mi hanno chiesto, padrone, ma perché la Madonna è preoccupata? Ma guardate che io non dico come... cioè non è che io vedo la Madonna in faccia. Quindi anche i veggenti quando la vedono in faccia non è che capiscono chissà che cosa, perché la Madonna diciamo sì, si vede, ma normalmente cerca di trasmettere un sorriso e una speranza. Però come la Madonna, se la Madonna è contenta o non è contenta, allora si vede dei suoi messaggi. Sono gli aggressivi messaggi alla parrocchia di questi 40 anni, vediamo i certi momenti drammatici e di... fra la Madonna da una parte e la parrocchia dall'altra, perché la Madonna diceva e la parrocchia non ascoltava e non rispondeva. Leggete? Per esempio i messaggi del 2004 e 2005. Leggete la requisitoria che la Madonna ha dato Miriana il 28 gennaio del 2007, del 1987, scusa, del 1987, ha fatto un messaggio che non è una requisitoria dei parrocchiani, contro i parrocchiani, non contro, una requisitoria di come si comportano. Quindi la Madonna ha sempre avuto, come dire, momenti in cui è elogiata la parrocchia, momenti in cui l'ha rimproverata. Adesso, se devo dire come si vede dai messaggi, è un periodo in cui la Madonna è un po' preoccupata. Per me è preoccupata per la parrocchia di Meciugorie. Da dove lo deduco? Lo deduco da quello che... lo deduco da quello che è successo in passato. Cioè, quando la Madonna era contrariata per il comportamento dei parrocchiani, non dava i messaggi. E quindi Maglia lo chiedeva perché Maglia deve chiedere il messaggio, anche adesso deve chiederlo in 25. E la Madonna stava zitta, non dava il messaggio. Poi magari, la volta dopo arrivava la lavata di capo. Ultimamente, invece, non fa così. I messaggi li dà, ma li dà brevissimi. Come ha fatto, a meno in due occasioni, il 25 marzo, dove ha detto questo tempo è il tempo di preghiera e non ha detto grazie perché avete risposto alla mia chiamata. È un segnale preciso. Non ha detto grazie perché di fatto non abbia risposto la sua chiamata. Questo l'ha ripetuto anche la tale. Ebbene, sì, è vero che il primo dell'anno ha detto grazie, ma prima noi abbiamo dovuto salire sul pobordo, come lei ha chiesto a pregare per tre ore. Quindi, questi sono segnali di una certa scontentezza della Madonna, che non non vede quello che lei chiede. Poi, oltre a questo, cioè, oltre al fatto che per due occasioni ha avuto un messaggio brevissimo e senza ringraziare, c'è il fatto che ha avuto due messaggi, ma proprio diretto alla parrocchia. Chiarissimamente alla parrocchia. E comunque tutti i messaggi, li ha avuto la Madonna, sono rivolti per prima alla parrocchia e poi a tutti gli altri. Quindi, cari amici, la Madonna ha avuto un messaggio il 25 settembre, ma te li leggerlo per cortesia, il messaggio del 25 settembre che fa venire la pelle d'oca. La Madonna praticamente ha detto ai parrocchiani, li ha chiamati alla preghiera forte perché il modernismo li ha privati della presenza di Gesù, addirittura. Cos'è il modernismo che è priva della presenza di Gesù? È quella visione della vita che non vede Dio, non vede soprannaturale, non vede la Madonna, non vede i suoi messaggi, ma lei non crede più neanche della Madonna e ne crede più neanche dei suoi messaggi e quindi non c'è più neanche la preghiera. Lì la Madonna esortava accuratamente a ritornare i primi giorni dell'apparizione quando si pregava giorno e notte. Quel messaggio del 25 settembre è un messaggio allarmante per la parrocchia. Non c'è dubbio al riguardo. Poi l'ultimo messaggio che la Madonna ha dato è un messaggio che sicuramente è rivolto direttamente alla parrocchia innanzitutto, come sempre, ma si vede che è rivolto alla parrocchia. Perché la Madonna ha detto pregate e rinnovate il vostro cuore affinché il bene che avete seminato porti frutto di gioia e di unione con Dio. Benissimo. Si è rivolto a quelli che stanno facendo un cammino quaresimale. Ma poi ha detto uno dei messaggi più agghiaccianti in 42 anni che la Madonna dà i messaggi. Ci ha detto la zizzania ha preso molti cuori e sono diventati sterili. Cioè la zizzania, cos'è la zizzania? La zizzania è il frutto del modernismo, cioè il modernismo è quella visione intramondana della vita, mondana della vita, intramondana della vita, c'è l'essenza soprannaturale che poi diventa una seminagione di zizzania. E purtroppo questa seminagione di zizzania ha preso molti cuori. Ha detto molti. Non ha detto qualche cuore. Ha detto molti cuori. La zizzania, cioè la mentalità modernista, ha preso molti cuori e sono diventati sterili. Questo è l'ultimo messaggio che ha arrivato alla Madonna. Poi ovviamente si è rivolto a quelli che invece hanno perseverato nella fede dicendo perciò voi figlioli, sate luce, amore e le mie mani tese in questo mondo che anela a Dio, che è amore. Allora, cari amici, io resistro perché voglio essere leale e non imbrogliare nessuno, che la Madonna in questo ultimo anno manifesta una certa scontentezza nei suoi messaggi. Manifesta una preoccupazione prima di tutto per la parrocchia. È evidentissimo. prima il modernismo e poi la zizzania. Sono cose pesanti. Allora, cari amici, questo è per dire che mentre Satana in questo momento qui brinda, brinda non so con quale liquore, a suo trio conforme la Madonna, è qui che conta i cuori che l'hanno abbandonata. La zizzania ha preso molti cuori e sono diventati sterili. Questo è il momento in cui siamo arrivati, cari amici. Adesso è chiaro che Satana cerchi il colpo finale perché siamo arrivati al momento in cui Satana sta per far scoccare, diciamo, già il mondo l'ha già conquistato dal punto di vista ideologico. Cioè, ormai il mondo è quello che ha detto la Madonna nel messaggio di gennaio. L'uomo moderno non vuole Dio e va verso la perdizione. Questo è il mondo, non vuole Dio. Quindi qui ha fatto già cappotto, benché, come vi dicevo, ci sono minoranze che la Madonna ha di sicuro, anche se adesso ha qualche apprensione. E nel medesimo tempo il diavolo è riuscito a creare un avvelenamento dei cuori in questi anni per anni. Per cui nel mondo c'è una carica di odio che è spaventosa, ma ce ne accorgiamo anche noi. Ma ce ne accorgiamo nei linguaggi della comunicazione, nel linguaggio della gente, nel linguaggio perfino dei politici. C'è, come dire, il tutto contro tutti. Siamo minacciosi gli uni contro gli altri. Siamo lupi l'uno all'altro, cari amici. Questa è la situazione del mondo. Per quello che la Madonna poi dice, figlioli, voi siate amore e le mie mani tese. Quindi, da una parte, Satana, per così dire, arriva alla soglia, a Biblici Segreti, convinto di far gapoto, la Madonna in questo momento non è molto contenta. Mi sento di dirlo, poi magari il prossimo messaggio ci rincuorerà di più, però questo è quello che si vede chiaramente. Chi sottovaluta quel che ha detto la Madonna nei due messaggi di settembre e di febbraio, vuol dire che non ha una retroterra di conoscenza dei messaggi, che quando la Madonna fa certe affermazioni, bisogna aprire molto bene le orecchie. Allora, cari amici, adesso, finito la prima parte, andiamo avanti nella seconda parte, che è la più interessante. E dunque, cari amici, noi siamo ormai a limitare dei segreti, non sappiamo come cominceranno, ma è questione di poco tempo, credo. Non so, io pensavo che questi due anni, 2024-2025, il Papa li ha dati alla Chiesa, cioè la Madonna attraverso il Papa, li ha dati alla Chiesa per fortificarsi nella preghiera e quindi per fortificarsi nella grande battaglia spirituale che l'attende. Però non si sa mai, i messaggi potrebbero incominciare presto. Allora, io le cose le vedo così. E cioè, nel tempo dei messaggi, Satana cercherà di fare capotto, cioè di distruggere il mondo per portarsi l'anima all'inferno, ma quante volte la Madonna l'ha detto? L'ha detto tante volte, no? Satana può distruggere le vostre vite e il pianeta su quale camminate. L'ha anche detto nel messaggio ultimo, cioè il 25 ottobre, no? E soffiano i venti dell'odio, della morte, dell'inquietudine e soffiano sulla terra per distruggere le vite. Quindi è chiaro che siamo in quella fase lì dove Satana e una belva assedata di sangue è pronto a scatenare i fini mondo. Allora, qui, cari amici, dobbiamo essere molto preparati. La Madonna ha preparato i suoi. Noi dobbiamo dare tutto il tempo necessario per prepararci spiritualmente, attraverso la conoscenza, la conoscenza spirituale, attraverso le scelte spirituali, attraverso la purificazione spirituale, attraverso la fortificazione morale e spirituale. Dobbiamo prepararci bene, perché comunque il tempo dei segreti sarà il tempo della disfatta di Satana. Adesso, cari amici, vorrei dirvi qualcosa che ho maturato in questi giorni, cioè a mio parere non ha senso che i segreti avvengano in Cina o in Brasile. Forse negli Stati Uniti sì, ma sembrerebbero molto lontani da noi, non lo so. Per me i segreti avverranno in Europa. I segreti avverranno in Europa. La Madonna è qui a Meggiugorje, in Europa, in mezzo ai due polmoni dell'Europa. Il polmone slavo e il polmone romano germanico. Quindi non c'è niente da fare. Quindi il cuore dei segreti è in Europa. I segreti verranno enunciati a Meggiugorje. Il segno sulla montagna sarà Meggiugorje. Meggiugorje sarà il centro dell'Epifania della Madonna nel tempo dei segreti. Dunque, adesso cercherò di descrivervi la vittoria di Maria nel tempo dei segreti, perché questa è effettivamente il cuore stesso del suo progetto di salvezza. I dieci segreti sono il cuore del suo progetto di salvezza. Innanzitutto, Meggiugorje. Cioè, Meggiugorje avrà un ruolo fondamentale nel tempo dei segreti, perché da lì partiranno comunque gli annunci tre giorni prima, perché lì ci sarà il segno, perché lì ci sarà anche l'apparizione della Madonna anche durante il tempo dei segreti a quel veggente che la Madonna avrà scelto. Ora, cari amici, cosa farà la Madonna a Meggiugorje? E' chiaro che i primi due segreti sono rivolti a Meggiugorje e hanno uno scopo ben preciso, purificare Meggiugorje, ripulire Meggiugorje, mettere alla prova la fede di Meggiugorje. Quindi è chiaro che si arriverà al primo segreto quando, evidentemente, con la scontentezza che la Madonna ha manifestato in quest'ultimo anno, anche nei confronti della parrocchia di Meggiugorje quando ha parlato di modernismo, quando ha parlato di assenza di preghiera, quando ha parlato... Se io non mi rifaccio perché dici la Madonna, insomma, leciti il messaggio del 25 settembre, o volete incestinarlo? Leciti i messaggi sulla Zizzania, ormai i segreti sono vicini. Quindi non c'è dubbio che i primi due monumenti sono una purificazione per Meggiugorje. Meggiugorje verrà purificata attraverso due prove, la cui inconsistenza vedremo quale sarà. Però non sarà facile, non sarà una cosa da nulla, abbiamo già parlato al riguardo. Miriana ha detto che non sarà una cosa piacevole. Miriana ha anche descritto il primo segreto, per permissione della Madonna, dicendo, usando termini di catastrofe e di sofferenza. Quindi i primi due segreti saranno una purificazione di Meggiugorje, perché quello sarà il baluardo del tempo dei segreti. E il terzo segreto, il segno sulla montagna, sarà come un premio a Meggiugorje, come un segno della sua presenza a Meggiugorje, e sarà un segno che le esprenderà soprattutto in tutta Europa. Più che nel mondo sarà un segno che illuminerà l'Europa. Allora, cari amici, questo per quanto riguarda i primi tre segreti, hanno questa funzione ben precisa, restituire Meggiugorje nella sua bellezza, nella sua carica profetica, restituire alle popolazioni del mondo, in particolare dell'Europa Meggiugorje, come segno della speranza cristiana. Dopodiché, cari amici, incominceranno i segreti dal quarto al decimo. Allora, i segreti dal quarto al decimo per me accadranno in Europa. E vi spiego per quale motivo. Questa è una cosa nuova e che non abbiamo scoperto prima, l'abbiamo scoperto adesso. C'è una lettera del nostro ascoltatore, si chiama Marcello, che ci spiega molto bene cos'è il 18 marzo per l'Europa e per la Russia. Ora, il 18 marzo è il giorno in cui la Madonna ha deciso che apparirà a Miriana in quella apparizione annuale per tutta la vita, il 18 marzo. Miriana ha detto di questo 18 marzo, di questa data, che la Madonna ha scelto non perché il suo nomastico, ma per altri motivi che capiremo in seguito. però a me pare che adesso siamo arrivati a capire qual è il motivo per cui la Madonna ha detto a Miriana che le apparirà il 18 marzo. Perché la Madonna, perché Miriana è quella che è incaricata a rivelare i segreti. e il 18 marzo ha direttamente a che fare con i segreti. Per quale motivo, cari amici? Allora, a questo riguardo, lo dico a voce, però vi invito a leggere molto bene la lettera che ha scritto Marcello che ho pubblicato sul blog. Cioè, Marcello cosa dice in pratica? Che lui ha fatto uno studio e si è reso conto, ci parla di un suo viaggio a Berlino per motivi di lavoro e lì è rimasto molto colpito nel vedere che a Berlino c'era la piazza il 18 marzo. Allora si è informato, ha dovuto fare uno studio su questo 18 marzo. Effettivamente il 18 marzo è una data europea molto importante, molto diffusa in tutta Europa. Per quale motivo? perché nel 1848 ci sono stati dei moti di rivoluzione sana da parte del popolo che voleva forme di governo più democratiche. Ci sono stati in tutta Europa, quindi ci sono stati anche a Milano, e quindi troverete in tutta Europa a piazza il 18 marzo. Era una insurrezione che ha portato la democrazia, alle prime forme di democrazia parlamentare. E allora le aristocrazie che erano al governo, i vari aristocrazie oppure vari reami che erano al governo, e cosa hanno fatto? Sono intervenute per reprimere queste insurrezioni. In particolare lo zar di Russia, Nicola I, è intervenuto presso l'impero degli Asburgo, cioè il capitale Viena, poi Buda, Beste e l'altra capitale, insomma l'impero austro-ungarico che era uno degli imperi allora nel 1848 più rilevanti del mondo. Lo zar di Nicola I ha fatto pressione sugli Asburgo perché reprimessero la rivolta. E gli Asburgo a loro volta hanno fatto pressione sul re di Russia perché reprimesse la rivolta. E così si è avvenuto allora già una prima divisione dell'Europa operata dalla Russia, cioè quelli che sono rimasti legati alle aristocrazie regnanti e quelli invece che hanno proceduto sulla via della democrazia. Allora, cari amici, il 18 marzo ha un significato di questo tipo, cioè da un regime oppressivo tenuto in piedi soprattutto dalla Russia in combutta con gli Asburgo e con altri gruppi hanno represso una rivoluzione democratica di popolo che era una speranza per la gente. Suggestivamente dopo questo 18 marzo del 1848 la Russia ha quasi sposato questa data per compiere le sue imprese più famose nei confronti dell'Europa cioè quando la Russia ha annesso, si è conquistata, diciamo la Bielorussia si è conquistata l'Ucrania è un 18 marzo cioè il 18 marzo indica un'azione della Russia contro l'Europa che è stata ripetuta più volte quindi nella cultura europea il 18 marzo è una data ben precisa con un preciso significato soprattutto questo riguarda riguarda Russia e Germania perché la Russia è intervenuta soprattutto per impedire alla Germania di avere un parlamento impedire a Berlino di avere un parlamento quindi questa questa diciamo data 18 marzo sta a indicare comunque sta a indicare un'azione della Russia contro l'Europa quindi potrebbe indicare che cosa? potrebbe indicare il giorno in cui ci sarà un'invasione dell'Europa da parte della Russia potrebbe essere la seconda fase della guerra come avete una volta Maria che in questa prima fase con l'Ucraina non c'è bombe atomiche potrebbe essere la seconda parte della guerra l'invasione in Europa dove potrebbero anche esserci le bombe atomiche non si sa, a meno quelle piccole, non si sa come sarà quindi cari amici, come vedete la Madonna ha già dato un senso ai segreti con una data, il 18 marzo che comunque è segno di libertà e di liberazione e dell'oppressione per quanto riguarda i popoli europei libertà e liberazione nei confronti della Russia nei confronti del nuovo imperialismo che è giustamente chiamato sovietico ortodosso cioè nei confronti del nuovo imperialismo sovietico ortodosso ci sarà un 18 marzo per quanto riguarda l'Europa cioè gli europei riusciranno a resistere gli europei riusciranno anche a vincere a vincere non gli eserciti ma la gente diciamo ecco questo cari amici era una nota nuova che volevo mettere a fuoco allora adesso passiamo alla riflessione globale cioè quella riflessione che per me è fondamentale a questo punto cioè quello che vi ho detto finora cosa dice? dice che alla fin fine il tempo dei segreti è un tempo di guerra tra una parte della regina della pace dall'altro il dragone infernale la donna e il drago ma è un diciamo così è sicuramente una una quadra globale ma è concentrata in Europa è concentrata in Europa e per Europa intendo l'Europa dell'Ovest l'Europa dell'Est e la Russia compresa riguarda questa zona ben precisa il tempo dei segreti c'è l'Europa dell'Ovest l'Europa dell'Est e la Russia fino agli Urali questa è la zona geografica dei segreti e questo è il luogo dei segreti cari amici dove si confrontano in una guerra spietata come potrebbe essere la prossima guerra mondiale e com'è quella comunque che c'è in Ucraina adesso si confronteranno dei cristiani cioè noi abbiamo perso un po' la nozione che in Ucraina stanno combattendo combattendoci fra di loro dei cristiani da una parte i cristiani che fanno riferimento al patriarcato di Mosca dall'altra i cristiani che fanno riferimento al patriarcato di Kiev dall'altra i cristiani che fanno riferimento a Roma insomma è una guerra fra cristiani quella dell'Ucraina non c'è dubbio a riguardo la guerra in Europa sarà una guerra fra cristiani anche fra quelli che sono secolarizzati anche fra quelli che mai hanno perso la fede ma hanno le radici cristiane sanno chi è la Madonna e quindi in questa area in questa area avverranno i segreti perché questa è l'area che la gente sa chi è la Madonna anche i russi sanno chi è la Madonna anzi sono particolarmente devoti alla Madonna quindi cari amici nel tempo dei segreti quando vedremo la Madonna che dal quarto al decimo li annuncia tre giorni prima ciò ovviamente oltre a manifestare la signoria di Maria sugli eventi oltre a manifestare la sua presenza attraverso la profezia di tre giorni oltre a indicare una via di uscita a quelli che sono colpiti dagli eventi dei segreti e anche un momento in cui cari amici la gente ma perfino i soldati stessi a modo momento si chiedono a cosa serve questa guerra e perché questa guerra dove andiamo a finire con questa guerra cioè la Madonna parirà come aiuto dei cristiani ma di tutti i cristiani compresi quelli ortodossi compresi quelli protestanti cioè diventerà come dire sarà un risveglio globale dei popoli europei che vedranno che Maria è venuta per la loro salvezza e fa profezie per portarli in salvo e esprime la sua presenza per dire che lei è la Signora che comanda non Satana allora cosa succederà? succederà che più i segreti vanno avanti dal quarto al decimo sono eventi di guerra più la gente non darà più supporto ai rispettivi stati né i russi daranno più supporto a chi l'ha portato in guerra ma neanche gli europei sempre più la gente come dire si riapproprierà della sua libertà e della propria identità cristiana si affiderà a Maria che è presente gloriosamente e miracolosamente con le sue profezie i suoi messaggi di incoraggiamento e quindi in tutto il tempo dei segreti noi vedremo crollare le potenze della guerra le potenze dell'uomo al posto di Dio e il mondo nuovo senza Dio che riguarda sia la dirigenza russa sia la dirigenza occidentale questo mondo nuovo senza Dio si spapolerà perché? perché non aveva più supporto dalla persona dalla gente la gente succederà come è successo con le apparizioni all'inizio delle apparizioni all'inizio delle apparizioni quando la Madonna passa a Meggiugore la gente si stracciava la testa del comunismo non aveva più paura neanche delle persecuzioni aveva detto vogliamo la libertà finalmente la libertà e così sarà nel tempo dei segreti e negheranno le loro appartenenze diciamo così di carattere identitario che poi portano a guerra contro gli altri e come dice il Santo Padre alla fine verrà fuori quello che è nel fondo del cuore umano e cioè che siamo tutti fratelli alla fine e figli di Maria quindi è un 18 marzo di questo tipo il tempo dei segreti cioè crolleranno come allora sono crollate le monarchie adesso crolleranno gli imperi gli imperiali le classi le classi degli dei crolleranno la gente riprenderà in mano la sua vita la sua libertà il suo futuro ma con Maria e grazie a Maria cari amici quindi questa è la la prospettiva che si aspetta che è a mio parere una grande prospettiva una prospettiva una prospettiva di grazia in questo contesto carissimi capite cosa vuol dire che la Russia si convertirà cioè il popolo russo stufo stufo della sua classe militare che lo governa da secoli la butterà la scrollerà se la scrollerà di dosso e il medesimo modo faranno anche gli occidentali con queste classi dirigenti massoniche e senza Dio e alla fin fine spietate nel sfruttare i poveri ci sarà un repolisti generalizzato a quei tempi cari amici diversamente non si riesce a capire come ci sarà un mondo nuovo cioè il mondo nuovo ci sarà perché crolla quello vecchio crolla quello vecchio e nasce un mondo nuovo nei cuori delle persone cioè quelli che erano portatori del mondo del diavolo crolleranno col diavolo e quelli che sono portatori della speranza cristiana faranno i tempi nuovi è una nuova primavera per quanto riguarda l'umanità allora carissimi questo dunque è la prospettiva che abbiamo davanti quindi io non so adesso fino a che punto la Madonna permetterà che le ondate del male colpiscono l'Europa e non so fin dove arriveranno non so se arriveranno a Roma non so se arriveranno in Italia e poi cercheranno perché questo è il piano di Satana di imbadonessi anche del papato di mettere il loro patriarca di Mosca a capo della chiesa di Roma a capo della chiesa universale a capo del nuovo impero mondiale perché queste sono cose che loro se ne dicono fra di loro e le scrivono pure lo sappiamo tutti tutti quelli che conoscono la Russia sanno che che questi sono i loro pensieri folli cari amici non sappiamo fin dove fin dove il male colpirà fin dove arriverà molto dipenderà anche dalla nostra preghiera perché gli eventi dei segreti accadranno ma gli effetti degli eventi dei segreti gli effetti dipenderanno molto anche da come noi combattiamo in quei momenti e quindi se noi siamo testimoni coraggiosi il male verrà fermato e se non lo siamo il male cercherà di prevalere anche se non ci non ci riuscirà bene carissimi questo dunque era il punto che ho fatto della situazione secondo quanto ho approfondito in questi giorni di significativo c'è il fatto che io vedo il grande combattimento spirituale in Europa è molto significativo il fatto che io veda che sono riuscito a capire che la Madonna vincerà perché la gente europea che comunque è cristiana la gente europea è cristiana e di fronte a questa presenza della gloria di Maria si rianimerà e prenderà in mano la sua vita e il suo futuro e quindi man mano crolleranno diciamo i mondi alternativi del diavolo e attraverso questa ripresa dei cuori questa conquista dei cuori della Madonna si suggerirà al termine la vittoria del suo cuore immacolato ma anche quella della chiesa cattolica bene carissimi questo è quello che volevo dirvi chi vuole una lettura più dettagliata del 18 marzo lo trova sul blog nella lettera che ha scritto Marcello anche nella mia risposta poi uno o un altro mi ha chiesto se la Madonna per arrivare fino a Roma passerà per i Balcani quindi dovrà passare anche per il segno di Međugorje anche a questo qui ho risposto trovate queste due lettere importanti sul blog e magari l'essenza ve l'ho già detto la sostanza ve l'ho già detto poi cioè io dico anche se non sempre leggo le lettere del blog io comunque tengo sempre conto che il pubblico globale è quello della radio e quindi vi do sempre una prospettiva una sintesi di tutto quello che bisogna sapere lo do sempre attraverso la radio prima di tutto perché tutti possono capire e sapere così vi ho spiegato l'importanza oggi il 18 marzo come vi ho spiegato che è una data europea e vi ho spiegato che alla fine i segreti siccome si svolgono in Europa con genti cristiane vedranno con la presenza di Maria un risveglio della fede cristiana nel crollo del mondo senza Dio questo è l'essenziale del messaggio che vi ho dato oggi con questo terminato carissimi ringraziamo Dio per questa grazia che ci fa della presenza di Maria per questa presenza che ci fa anche di questa radio che rende questo straordinario servizio ai pene della Madonna resa dei carimici sempre in sintonia sulla nostra dolcissima Radio Maria